Grazie per l'ingentile invito al professor Chiesa e al professor Melisano. La tecnica di petticotta adottata nel trattamento della dissezione acuta. Lo scopo del trattamento endovascolare delle dissezioni acute di tipo B è ovviamente quello di coprire la porta d'entrata, di dirigere il flusso nel lume vero, di escludere così il falso lume, ma fondamentalmente anche in prospettiva futura quella di promuovere l'espansione del vero lume e la trombosi del falso lume. Allo scopo di favorire prevalentemente questi ultimi due obiettivi, alla copertura con un endograft della aorta toracica discendente, alla copertura della porta d'ingresso, viene associato in questa tecnica l'utilizzo di uno stent scoperto che ha il preciso compito, quello di indurre l'allargamento del vero lume, schiacciando così il falso lume, creando di fatto un rimodellamento del tempo della aorta. Il risultato dell'utilizzo della petticotta con questo lavoro che è di fatto un lavoro abbastanza recente che vede una modifica però nella tecnica, loro utilizzano prevalentemente prima lo stent scoperto e poi il graft sulla aorta toracica, ma di fatto quello che non interessa è vedere che l'espansione del vero lume con la sola tevara avviene nell'87,5% dei casi e invece con l'utilizzo della petticotta avviene nella totalità dei casi. Il materiale utilizzato per questa tecnica si deve alla CUC, l'idea di dedicare un device per questo tipo di tecnologia, e infatti utilizza un cover stent endograft per l'orta toracica, poi uno stent scoperto in acciaio con un disegno a z, ha il vantaggio che è stato oggetto di uno studio pubblicato nel 2013, e però ha degli svantaggi. In fatto la forza radiale di questo stent d'acciaio non è quella per esempio di uno stent nitinolo, ha un oversizing importante soprattutto a livello distale, questo esagerato oversizing distale potrebbe indurre un danno con un eventuale processo di ridissezione o addirittura delle complicanze di disallineamento dello stent scoperto sull'endograft. E' una complicanza che è stata descritta proprio in questo gruppo del professor Chiesa in quattro casi che ha visto appunto il cattivo disallineamento dello stent scoperto rispetto all'endograft. Per questa ragione abbiamo pensato, come dall'altra parte era già stato segnalato, l'utilizzo di uno stent scoperto al nitinolo che cercasse di evitare quelle complicanze di cui ne ho parlato in precedenza. Abbiamo utilizzato il device nitinolo della Jotec che ha il vantaggio anche di essere conico, quindi di poter garantire a livello della distal landing zone un calibro più adeguato con il vero lume. In più la forza radiale del nitinolo si continua nel tempo e quindi favorisce l'espansione del vero lume. La nostra piccola esperienza in tre anni è di 24 trattamenti endovascolari in acute di sezione di tipo B e in cinque casi abbiamo utilizzato questa tecnica Petticoat sempre con lo stent di cui vi ho parlato. Questi sono velocemente i casi, in questo caso vedete un paziente trattato in acuzie dove si vede nel posto operatorio lo stent scoperto in associazione all'endograft. Questo paziente aveva una situazione di perfusione viscerale critica e dopo il controllo immediato a distanza di una settimana prima della dimissione vedete come il lume vero della orta si sia riguadagnato perfettamente con una normale perfusione viscerale. Questo è un altro caso in cui è arrivato il paziente con dolore toracico. In realtà lo studio non aveva solo la dissezione ma aveva anche un aneurisma toraco-addominale. Qui è stato trattato con una tecnica total endovascular perché è stato messo un Cibney sull'anonima e poi trattato per via endovascular la copertura di tutto l'arco e poi uno stent scoperto sulla orta toracica discendente. In questo è un altro caso in cui abbiamo avuto un problema durante l'intervento, cioè nel momento in cui abbiamo rilasciato lo stent scoperto, abbiamo fatto il primo controllo, in realtà abbiamo trovato l'occusione delle arterie renali. Quindi è stato necessario rincanulare le arterie renali per stentarle ed è stato possibile grazie anche alla rottura della lamella che è avvenuta abbastanza facilmente. Quindi anche l'avere uno stent di questo tipo a celle chiuse non impedisce il posizionamento di uno stent a livello viscerale. Questo è l'ultimo caso che vi faccio vedere. Questo è un ragazzo di 28 anni, è un Marfan. Qualche anno prima aveva operato la mamma di Marfan della stessa identica in open surgery e la mamma ha accompagnato il figlio con un problema di dissezione acuta, non ha accettato un intervento a cielo aperto. È stato fatto quindi subito un trattamento endovascolare con questa tecnica. Poi queste erano le caratteristiche nel momento dell'impianto della petticotte in acuzie. Questo è il risultato immediato, eravamo abbastanza contenti del risultato ottenuto, però nel tempo, guardate il controllo, a 6 mesi, 12 mesi, 24 mesi c'è stato un allargamento importante della aorta addominale alta che ha costretto poi dopo un intervento a cielo aperto di sostituzione della aorta toraco-addominale e l'anastomosi prossimale ovviamente è stata fatta sulla precedente endograft. Quindi, in conclusione, la tecnica petticotte sicuramente ha una sua valenza nel favorire il rimodellamento aortico favorendo l'allargamento del lume vero e riducendo il lume falso. È con questo tipo di stent possibile anche lo stenting viscerale e dal punto di vista chirurgico aperto è facilmente rimovebile.